Siccome abbiamo fatto il post sul Mobike, parliamo anche di Bike Me, Bike Me elettrico di cui sono un assiduo utilizzatore per fare la tratta famosa Lodi Savona, a pezzare all'Odi via Savona, tutte le mattine. Guarderò anche il log, ma devo dire che non c'è mattina in cui non mi trovi costretto a cambiare una o due o tre volte la bici elettrica perché è scarica, ma viene comunque fornita, ha una ruota a terra più raro, ma è scarica, è un tema frequente e anche questo è un tema proprio infrastrutturale, nel senso che è un modello che è stato costruito senza utilizzo da smartphone, con stazioni fisse, quindi con delle forti limitazioni sull'usabilità e in più senza stazioni che ricaricano la bici, quindi se è passato l'omino trovi la bici carica, se non è passato l'omino non trovi la bici carica. Ecco, io ogni mattina mi trovo in questa situazione, questa è la seconda bici che utilizzo, parto, pedalo e anche questa è già, il mio motore non spinge e adesso andrò a fare il terzo cambio consecutivo, cioè la terza bici a prelevare, per cui utilizzo la mia seconda tessera di BikeMe che ho fatto per questo motivo, io ho due tessere di BikeMe che utilizzo proprio per questa ragione specifica, perché mi trovo sovente costretto a fare dei cambi e partiamo. Allora, andiamo al portafoglio, abbiamo usato la tessera bianca, oggi usiamo la tessera gialla, di solito sono i 5 minuti che devi attendere tra un pieglievo e l'altro, quindi ho messo giù la bici che era scarica, ho preso la bici che era carica e devo attendere 5 minuti per prendere un'altra, entriamo in una sorta di incubo, se uso la tessera, questa mi dice che non ci sono bici elettri a disposizione, quindi adesso cambio stazione, vado ad un'altra stazione qui vicino e proviamo il cambio lì, una nuova stazione, ecco c'è una nuova stazione, riproviamo a prendere un'altra bicicletta, sono con la mia seconda bici e adesso cerco di prendere la terza, è già una bici in uso, quindi questa è la tessera che sto usando, vediamo se sono trascorsi i 5 minuti tra un pieglievo e l'altro, niente, non sono ancora trascorsi i 5 minuti, fino adesso me ne so, fermo qua, finché non posso usare la seconda tessera del BikeMe per prendere una terza bici elettrica stamattina per andare in ufficio, sperando che almeno la terza sia carica, non devo fare questa operazione alla quarta volta, aspetto un po' e poi riproviamo. Dovrebbero essere trascorsi i 15 minuti, riprovo a prelevare la terza bici elettrica, eccolo qua, prendiamo una bici elettrica, mi dice di prendere la bici 7, allora vado a prendere la bici 7 e riporto anche la bici scarica, eccola qua la bici 7, parco giù un attimo qui la bici precedente che è scarica, prendiamo la bici 7 e vediamo se funziona, quindi, qua butta già male perché mi dà rossa anche questa già, poi vediamo se magari pedalando si mette in moto, intanto restituisco l'altra che sicuramente scarica, la rimettiamo a posto e adesso proviamo ad andare con la bici 7, vedendo se per caso c'è batteria, anche questa non funziona, 3 bici su 3, 3 bici su 3, andiamo a restituire anche questa, a questo punto non posso fare un altro cambio, devo aspettare 5 minuti, perché ho appena restituito l'altra, e quindi restiamo in questa sorta di incubo imprigionati dalle bici che non funzionano, vediamo anche una delle due tessere che ho, essendo un utente finalizzato consente di non attendere i 5 minuti, troppo lieve l'altro, bici è agganciata correttamente, aspetta 5 minuti, questa ce l'abbiamo invece, è già una bici in uso, e quindi altri 5 minuti, oppure devo pedalare con una bici elettrica pesante, senza motore, che vi ricordo è la terza che ho preso stamattina, ho fatto da Porta Romano alla Bocconi, e sono ancora qua, per prendere la quarta bici, a questo punto cosa faccio? Aspetto 5 minuti, leggo un po' di mail, poi prendo una bici non elettrica, sperando vada bene, e poi cercherò le prossime stazioni, intanto ogni 5 minuti di attesa, li utilizzo per fare un po' di strada, di prendere una quarta bici elettrica, una quinta bici in assoluto, ci vediamo tra qualche minuto. Siccome mi sentivo un po' scemo, stare lì e aspettare 5 minuti, sto pedalando ovviamente, faticosamente, perché il bike me elettrico, scarico, è una bici più pesante del bike me, senza le marce, e comunque il motore, che agisce, sui pedali, ma che essendo scarico, diventano un ulteriore attrito, quindi è faticoso, pedalare su bike me elettrico scarico. Ciò nonostante, mi sposto avanti di una stazione, intanto, come dire, mi porto un po' più verso l'ufficio, e inganno l'attesa dei 5 minuti necessari, tra una consegna e l'altra, e quindi, continuerò ad alternare le mie due tessere, alla prossima stazione, userò quella della DC2, che ho rispito poco fa, e rispiorò la DC3, e se dovesse andar male, poi userò la DC3, e poi prenderò la DC5, la DC4, se non avrete capito. Vi c'è la prossima stazione, non credo sono passati 5 minuti, proviamo. Vediamo, usiamo la tessera bianca, questa volta, vediamo se sono passati 5 minuti, no, tra un pedale di lavoro, mi va a tenere 5 minuti. Quanto manca alla fine di 5 minuti, non è dato sapere, e aspettiamo. Tempo, vado a restituire, la bici, numero 2, se c'è un posto vuoto, non lo vedo, così mi libero le mani, ma non credo, quindi devo aspettare, di prendere la bici, numero 3, sperando che sia carica, e al posto della bici numero 3, parcheggiare la mia bici numero 2, e, no, scusate, questa è già la 3, devo aspettare, di prendere la bici numero 4, sperando che sia carica, al posto della bici numero 4, mettere la bici numero 3, che è questa, la terza bicicletta che sto usando, se non ti ho perso il rotto. Adesso, quando sono passati 5 minuti, prendo una quarta bici elettrica, invece la mandi buona, e parcheggio la terza bici elettrica, e vediamo come si. Anzi, nel frattempo, un signore sta prelevando una bici, per cui intanto mi libero della terza, e qui non so cosa fare, ma ne sono scarica, e, mi libero le mani, per cui, al posto di questo signore, metto la bici numero 4, **S"- Inanimo, comunque i miei minuti li devo aspettare, e quindi, non c'è fretta, in che non mi si sblocca, la terza, e non so cosa fare. Adesso mettiamo via la bici numero 3. Adesso abbiamo fatto un chilometro su cinque, ho preso tre biciclette, ho due tessere, una ancora mi dice di attendere, perché non sono passati cinque minuti di un perere o l'altro, a me che si è magicamente sbloccata, scegli la tua bici, perfetto. E quindi, bici elettrica. Prendi la bici numero 20. Bici numero 20. Prendiamola, la quarta bici di stamattina. Oh, due lucine verdi. Gomme a posto, andiamo. Insomma, poi vi do il finale quando parcheggio. Questo per dire che il BikeMe elettrico ha questo problemino. Io, premetto, sono un grande utilizzatore, un grande fan del BikeMe, che trovo un servizio ottimo. E, certo, tante cose, le bici sono un po' pesanti, quello che vogliamo, ma trovo un servizio ottimo di cui andare fieri come città. Sono un entusiasta del BikeMe elettrico, perché credo che consenta di usare la bici a categorie più deboli, come gli anziani, o renda più facili i percorsi lunghi, sopra i 3-5 km, ed estate, col caldo, fa arrivare in ufficio meno sudati. C'è però un problema sul BikeMe elettrico, che la frequenza, e vi dice uno che lo usa praticamente ogni mattina che va in ufficio, la frequenza di bici scariche, con la batteria scarica, perché la batteria va rimossa da qua, dall'omino della manutenzione, è altissima. E stamattina avete visto un episodio, perché questa è la quarta bici che ho dovuto prendere, cambiandone tre di fila in tre stazioni successive, con tutti gli inconvenienti dell'attesa dei 5 minuti tra una cosa e l'altra, e essendo dotato di due tessere, perché in certi casi ho ottenuto anche l'impatto dell'attesa. La frequenza di trovare bici scariche è purtroppo altissima, perché? Perché nella manutenzione manuale, se non è passato l'omino a caricare la bici, la bici è scarica, se la bici è scarica, diventa quasi inutilizzabile, o comunque tutt'altro che vantaggioso come il BikeMe elettrico. E quindi è un tema strutturale di come è stata fatta, non ci sono stazioni di ricarica, o comunque richiede un maggior investimento. Se si vuol credere nella mobilità elettrica, nella mobilità dolce, nella bicicletta elettrica, in sharing, cosa a cui credo fermamente, bisogna investire un po' di più. Bisogna investire un po' di più in manutenzione, garantire che al mattino le bici abbiano ottenuto la batteria carica, investire in batterie, fare un certo motore durante la giornata. Anche alzando i prezzi, anche alzando un po' i prezzi, non deve essere regalato, il servizio deve essere inattivo, ma deve funzionare. Così si scoraggia l'uso della bici elettrica, non si incoraggia, e quindi poi il sistema implode su se stesso, quindi è anche a rischio. Poi a un certo punto le toglieranno, se la gente non le usa, e quindi diventerà un fallimento. Perché? Perché non era usabile, perché non era fatto bene fino in fondo, in considerazione l'esperienza d'uso delle persone. Quindi io non faccio questo video per fare nessuna polemica, sono un fan e un entusiasta del BikeMe e del BikeMe elettrico, ma evidenzio da parte di un utilizzatore assiduo un problema di usabilità importante che spero possa essere risolto, quindi do il mio contributo e il mio suggerimento all'amministrazione perché possa rendere ancora migliore questo servizio. L'operia c'è, ma il motore non aggancia, non parte, non dà la spinta. È un problema non frequentissimo, ma che capita. E a volte si risolve con qualche pedalata o con magari un colpetto dato da un dosso che fa innescare la trazione del motore, a volte non si risolve. Quindi avevamo pensato di avere l'attività qui alla quarta bici, ma c'è un rischio concreto che debba prendere un'attività perché questa, pur avendo batteria, non ha spinta del motore, quindi forse è un problema come non ci fosse. È un problema di contatto, quindi probabilmente sono dei contatti un po' deboli tra l'alimentazione elettrica e il motorino. Infatti questo problema, una volta su due si risolve o una pedalata o un retro pedalando e poi pedalando. Ecco, adesso forse. Adesso ha preso. Adesso ha preso. Ha fatto la retro pedalata e adesso ha preso il motorino elettrico, quindi forse riusciamo ad arrivare in ufficio con la bici numero 4 senza dover ne prendere altri. Ecco, adesso ripercorro quel tratto di Naviglio Grande che avevo percorso nella review con il Mobike in cui si vedeva la rigidità, si sentiva insomma la rigidità del Mobike sul pavè, il pericolo binari, la piccola salita finale dove si doveva pedalare molto con scherzi risultati vista l'assenza di marce e quindi dove una cosa semplice diventava faticosa. Con l'alimentazione elettrica in realtà non c'è lo sferraliamento, non c'è la rigidità, il suo certo è un pavè, ma il rispetto di ammortizzazione è dato dalle ruote più alte, dalle ruote più neumatiche, con dentro aria rispetto alle ottime e comode perché non hanno un'ambizione ruote rigide del Mobike e diciamo anche il rischio di andare sul binario è sicuramente meno rilevante con il BikeMe elettrico. e in fondo qui adesso vediamo la salitina dove l'altra volta si fece molta fatica diciamo che non può riprendere i panzelli provocati dal pavè, la sella è morbida, insomma c'è tutta una serie di accorgimenti per cui la bike è più comoda e più sicura in un percorso tipicamente milanese come il Padre e Spesso, ma l'ultimo punto in dito. E la salitina qui è, ragazzi, per una precosta. Cioè lì mi veniva il fiatone a metà della salitina tra il parlare e il pedalare, qua in realtà il motore fa il suo dovere, sente il maggior sforzo, spinge di più e sangueva belli sereni in cima alla salitina. qui non ha problemi di salite, no? però ha tante piccole cose che rendono un mezzo più inclusivo, più accessibile, più comodo di altri mezzi. E anche qua che adesso abbiamo il bellissimo rettilineo del naviglio ciclabile che è l'ultimo transfer che mi porta all'ufficio, ancora la batteria, un attacco a due merdi. Ecco, ragazzi, signori, qua è un'altra vita. Cioè il senso di pedalare a vuoto arrivati ai 10-12 km all'ora svanisce completamente. Certo, si va a piena performance del motore, per cui poi non si può spingere di più, ma stiamo andando verso i 20 e qualcosa, una velocità moderata, ma intanto gradevole, e poi insomma che ti porta a destinazione. Questo naviglio, secondo me, se facessimo, partendo pari, con la stessa persona, in BikeMeElectric e in Mobike, il chilometro che io devo percorrere, lo so fare alla metà del tempo minimo con il BikeMeElectric, quindi non parliamo di cose da poco. Vedete anche di fronte, per darvi un'idea, vedrete adesso arrivare delle bici normali, e in Mobike è più lento di quelle bici normali, perché l'ho visto quando l'ho preso l'altra volta, mi superavano tutte le bici normali, e ripeto, con un vado piano, e mi superavano vecchietti in bicicletta, bambini, chiunque, e il BikeMeElectric, ho visto poi stravenario a vantaggio, che, come dire, ha una velocità di crociera, vedete come mi avvicino le bici davanti, adesso supereremo, ha una velocità di crociera, sostenuta, e, insomma, le bici dietro le abbiamo salutate, sono un po' sulla sinistra, un po', comunque cambia l'esperienza, e cambia i tempi di percorrenza significativamente. Ci sono arrivati, all'incrocio di via Savona, dove ho lasciato un bike, dove, questo oggi lascio l'AlchemyElectric, perché tutte le mattine, non mi lascia la bici per venire in ufficio, e, oggi, non sarà facile, non è la giornata adatta, per calcolare il tempo di percorrenza, perché, credo siamo sopra 45 minuti, ok, abbiamo fatto, ricordiamo, tre cambi, appoggianato anche il telefono, abbiamo fatto il telefono, qui, questa è la quarta bicicletta, che ho dovuto utilizzare, vediamo che l'uncina diventi verde, che bisogna venire a guardarla da davanti, perché è un po' scomoda, dicevo, è la quarta bicicletta che ho dovuto utilizzare, ho dovuto fare tre cambi, perché le prime tre bici elettriche prese, erano tutte e tre scariche, e la quarta era carica, all'apparenza mi è parso di dover cambiare anche la quarta, perché, non partiva il motore, poi il retro pedalando, insomma è partito, di solito ci metto 18-19 minuti, a fare questi 5-6 km, quindi una media di 15 km all'ora, abbondante 16 km all'ora, che è una buona media, data dal fatto soprattutto che, tra i tiretti linei, si va veloce, si va sopra i 20, anche di più forse, col motore elettrico, anche 25 km all'ora, e in bike me normale, ce ne metto come dicevo 22, bike me mobike 29, e con una media, quindi praticamente di poco più di 10, quindi 10-11 km all'ora, contro 15-16, o 13-14 del bike me normale, quindi 16 del bike me elettrico, ciò è dovuto al fatto che, il mo bike non va più di, secondo me qua è 13-14 all'ora, 15 all'ora massimo, proprio picchiando giù sui pedali, ma poi vanno a vuoto, ma secondo me anche meno, va a 12-13, una cosa del genere, e quindi ci si mette, 10 minuti in più, 11 minuti in più, rispetto a questa, la mattina, e 11 minuti in più la sera, 20 minuti al giorno, col mo bike, con il bike me elettrico, ci mette molto meno, salvo quando, purtroppo frequentemente, c'è questo inconveniente, quindi, i miei ringraziamenti, e complimenti all'amministrazione, che sta investendo, su Milano ciclabile, però non basta, servono le piste, per rendere, più sicuri, e più veloci, e più invoglianti, l'utilizzo di questi mezzi, e, questi mezzi, si potevano, si possono, e si debbono, fare meglio, fare meglio, se deve essere più assistenza, più investimento, sul monotenzione, del back me elettrico, per garantire, la bici carica, e il mo bike, l'abbiamo visto nell'altro video, troppo piccole le bici, troppo lente, insomma, quindi, andiamo nella direzione giusta, ma, bisogna investire, di più, e meglio, su queste soluzioni, perché, devono essere soluzioni, usabili, più di quello che lo sono adesso, e, le piste aiutano, a rendere più usabili, ma anche, alcuni, limiti di utilizzo, si possono migliorare, soprattutto, sulla bicicletta elettrica, che credo, possa veramente allargare, la frizione, della mobilità ciclistica, pubblica, a molti milanesi, che magari, si sentono più, sicuri, a fare la spesa, a portare, qualcuno sul bike, quindi, ecco, ripeto, condivido questi video, per condividere un'esperienza, si parla spesso, con tante persone, del bike sharing, che è una ottima cosa, e che poteva essere fatto, un po' meglio, che può essere fatto, un po' meglio, questi sono alcuni suggerimenti, da un utente, grato e affezionato.